Venerdì 8 marzo in 100 secondi le breaking news di Alice Channel mancano solo pochi giorni alla terza edizione di Letexpo la più innovativa fiera su logistica sostenibile trasporti e servizi alle imprese tornerà dal 12 al 15 marzo a Verona quattro parchi in cinque padiglioni per oltre 100 momenti di confronto tra stakeholders di settore rappresentanti del mondo delle imprese delle istituzioni della ricerca e della formazione veniamo ad alcuni dati economici in calo i prezzi alla produzione industriale che a gennaio scendono dell'1,7 per cento su base mensile e del 10,7 per cento su base anno a un andamento dovuto ai ribassi dei prezzi energetici mercato immobiliare italiano in sofferenza le compravendite nel settore residenziale lo scorso anno sono calate del 10 per cento anno presa l'aumento dei tassi nel quarto trimestre i mutui sono stati richiesti solo nel 37 per cento dei casi ai minimi dal 2021 andiamo negli stati uniti il presidente biden a tutto campo nel discorso sullo stato dell'unione tra i temi toccati l'annuncio di una missione per costruire lungo la costa di gaza un porto offshore dove accogliere aiuti umanitari poi l'attacco a trump è una minaccia per la democrazia parliamo di trasporti marittimi in calo in oli container nell'ultima settimana dreury ha registrato una flessione generalizzata delle tariffe pari al 6 per cento andamento simile per le rotte tra asia e europa con in oli delle tratte shanghai genova shanghai rotterdam che cedono rispettivamente 6 e 7 punti in chiusura ai mercati finanziari borse europee caute con gli investitori che continuano a guardare alle prospettive di politica monetaria spread sui 132 punti brent in leggero rialzo oltre gli 83 dollari al barile loro collezione a record su record e sale a quota 2.168 dollari l'uncia è tutto per le breaking news di oggi buona giornata l'uncia è tutto per le brent in leggero